Tratteremo adesso un argomento. Chiederò a Stefania Barca... Di non farvi addormentare. No, no, non vi farà addormentare perché ho visto la sua presentazione, me l'ha anche raccontata, è veramente molto interessante e molto facile da comprendere. Chiedo solo a Stefania se riusciamo a stare un pochino nei tempi. Sì. Sì? Mi dici qual è il bottone così non perdiamo tempo? Ancora. Questi avanti e indietro. Buongiorno a tutti. Privacy e comunicazione. Infatti, questo è avanti e questo è indietro, scusate. Come operare correttamente? Perché abbiamo deciso di fare questo breve intervento formativo? Perché ci siamo posti in interrogativo di come all'interno dei nostri club, ma prima ancora all'interno del nostro distretto, si sia preso in esame questo argomento. Innanzitutto che cos'è la privacy? La privacy è la tutela del trattamento dei dati personali. Cosa vuol dire? Abbiamo parlato di brand, abbiamo parlato di identificazione del rotary. Anche le persone si identificano e si identificano attraverso i propri dati personali. La privacy è il diritto alla riservatezza dei dati personali. Nasce tantissimi anni fa come il diritto ad essere dimenticati. Oggi è di particolare importanza perché l'enorme evoluzione che ha la tecnologia e l'enorme evoluzione che hanno le tecniche di comunicazione fanno sì che i nostri dati, in pochissimo tempo, possano essere diffusi anche senza il nostro consenso. Nel nostro paese la legge sulla privacy non è recente. Parliamo del codice privacy che è del 2003. Ma il codice privacy era impostato in modo molto diverso da come oggi la privacy è stata integrata. Il codice privacy ci diceva esattamente cosa fare, come farlo, quali erano i rischi che si correvano nel trattamento dei dati, quali erano le misure di sicurezza da utilizzare. Oggi, con l'entrata in vigore del famoso GDPR, ne avrete sentito parlare, il regolamento europeo sulla privacy, la prospettiva è totalmente cambiata. Il principio è il principio di responsabilizzazione. è il titolare del trattamento, cioè colui che ottiene i dati a dover decidere come trattarli in base ai rischi ai quali va incontro e se ne assume piena e totale responsabilità da tutti i punti di vista. Ma facciamo un passo indietro, perché molte volte si fa confusione sulla definizione di dato personale. Per dato personale si intende qualunque informazione che identifichi una persona fisica e sottolineo persona fisica oppure che la renda identificabile. Cosa vuol dire? Una targa automobilistica è un dato personale, perché noi possiamo accedere al pubblico registro automobilistico e ricavare chi è il proprietario di quell'auto. Qual è il soggetto tutelato dalla legge sulla privacy? La persona fisica, cosa vuol dire? Che la società, in quanto ente diverso dal suo amministratore delegato, non è un soggetto destinatario della tutela privacy. Che cos'è un trattamento? Sono termini che è indispensabile che si conoscano, perché altrimenti non si entra nella materia, non si comprende di cosa stiamo parlando. Per trattamento si intende raccolta, conservazione, registrazione, organizzazione, uso e comunicazione del dato. Perché è importante definire il trattamento? Perché nel momento in cui io sono in possesso di un dato, posso farne uno, due, dieci, quindici, venti usi differenti. Ogni uso che io ne faccio è un trattamento. E su quell'uso e quel trattamento io devo fare delle valutazioni. L'archivio, che cos'è? E dove mettiamo il dato? No, cioè è semplice. Quindi insieme strutturato di dati che sono resi accessibili con un determinato criterio che di nuovo, io titolare del trattamento, decido qual è il criterio di accessibilità a quel dato. Quali sono i soggetti, gli attori della privacy? E questo è importantissimo, perché se non si capisce questo, non si capisce niente. L'interessato è il soggetto in cui i dati vengono trattati. Nei nostri casi, i nostri soci. Semplice. Il titolare è quel soggetto al quale i dati vengono comunicati. Se guardiamo i nostri club, formalmente è il presidente protempore del club, il titolare del trattamento. Gli incaricati sono quelle persone alle quali noi deleghiamo specifici trattamenti. Se noi abbiamo un segretario, il presidente delegherà il segretario a trattare i dati dei soci per fare determinate cose. Il responsabile esterno è uno o più soggetti ai quali noi conferiamo i dati che ci sono stati dati per delle specifiche finalità. E qui entro nel vivo poi di quello e del lavoro che abbiamo fatto. cosa accade nei nostri club? Noi facciamo il nostro proselitismo e una persona ci dice voglio venire a una vostra conviviale. Cosa ci dà? Nome, cognome, numero di telefono. Noi abbiamo due opzioni. Lui viene alla nostra conviviale e il Rotary. Non gli interessa. Noi prendiamo nome, cognome, numero di telefono. Noi presidenti di club o segretari lo cestiniamo. Lui decide di iscriversi. Ecco che il dato viene acquisito. Nome, cognome, numero di telefono, data di nascita, codice fiscale e quant'altro. Quindi cosa vuol dire? Che noi facciamo diversi trattamenti. E cosa dovremmo fare? Noi dovremmo valutare per ogni trattamento che facciamo dei dati che il socio ci conferisce innanzitutto se i dati che abbiamo ci servono perché se non ci servono noi non dobbiamo neanche detenerli principio di minimizzazione se li stiamo trattando nel modo corretto quindi se faccio un esempio che così è chiarissimo noi sappiamo quali sono le intolleranze alimentari dei nostri soci perché noi organizziamo delle cene d'accordo? Quel dato quell'informazione noi dobbiamo limitarla al trattamento che è finalizzato all'organizzazione della conviviale non dobbiamo non dobbiamo quel dato metterlo nel trattamento che è la contabilità perché a noi non serve sapere se il celiaco ha pagato la quota o non ha pagato la quota a noi ci interessa sapere se tizio che poi dall'altra parte sappiamo essere celiaco ha pagato o non ha pagato la quota poiché la valutazione dei rischi l'individuazione delle tipologie di trattamento non viene fatta perché quando è stato introdotto nel Rotary il discorso privacy ci siamo limitati a pensare all'informativa privacy che viene data al socio ma io vi faccio una domanda ma l'informativa di che cosa se non abbiamo fatto delle valutazioni se non sappiamo quali dati abbiamo per cosa li usiamo chi può accedere a quei dati come ci possiamo accedere su quali supporti teniamo i dati cosa stiamo informando di che cosa di nulla allora che cosa abbiamo fatto come commissione comunicazione Carmelo Verardo mi ha fatto questo grande regalo abbiamo iniziato ad indagare cosa fanno i club come abbiamo fatto siamo andati a vedere tutti i club usano club comunicator ma prima ancora di dirvi questo vi dico i trattamenti che noi facciamo quali sono tutti gestiamo l'anagrafica gestiamo gli organigrammi statistiche di assiduità perché le facciamo quando presentiamo il nuovo anno la contabilità le comunicazioni e qui si apre un mondo perché le comunicazioni le facciamo attraverso mail le facciamo attraverso whatsapp le facciamo attraverso la pubblicazione di video dove sono presenti le immagini altro dato personale l'immagine attraverso foto di questi trattamenti come dicevo prima ne risponde naturalmente il titolo cosa vuol dire ne risponde perché voi potrete dire cosa vuol dire ne risponde vuol dire che se quel dato viene rubato alterato modificato e questo genera un danno è chiaro che l'interessato potrebbe richiedere il danno ma peggio ancora è se mai uno dei nostri club o il distretto venisse controllato da parte dell'autorità preposta a verificare il rispetto della normativa europea sulla privacy e oggi ovviamente italiana ci sarebbero delle sanzioni abbastanza salate torniamo da dove mi sono fermata tutti i club del distretto usano club communicator versione pro quindi hanno tutti i trattamenti che vi ho esposto prima anagrafica statistiche di assiduità contabilità soltanto alcuni usano la versione light io mi sono presa la briga con la collaborazione del responsabile legale di soft area di verificare come club communicator si è adeguato al regolamento europeo sulla privacy quindi vuol dire che io sono andata a vedere come funziona il sistema su quali supporti vengono caricati i dati quali sono le misure di sicurezza che vengono utilizzate quali sono tutti quei processi che come impresa come azienda naturalmente soft area ha dovuto fare e salvo alcuni aggiustamenti che abbiamo concordato insieme effettivamente se il club utilizza solo la versione pro di club communicator senza fare altri trattamenti cioè vuol dire che usa solo ed esclusivamente la versione pro vuol dire che non ha un sito internet vuol dire che non ha una pagina facebook vuol dire che non fa nient'altro sarebbe sufficiente dato che soft area diventa un responsabile esterno del trattamento cioè un soggetto al quale noi abbiamo conferito i dati per poter fare tutte quelle attività che vi ho detto gestione anagrafica eccetera eccetera sarebbe sufficiente da parte del presidente pro tempore fare un rinvio alle valutazioni di sicurezza che soft area ha fatto nell'elaborare quel sistema per tutti i club invece che usano la versione base che quindi hanno solo l'anagrafica e la statistica di assiduità non c'è altro e quindi utilizzano altri supporti molti di noi usano foglie excel usano word usano tanti altri supporti allora è chiaro che sarebbe necessario che un consulente facesse le valutazioni del caso per poter dire cosa fare e come farlo qui faccio solo una precisazione di quali sono gli altri trattamenti rispetto all'uso di soft area versione pro ma ve l'ho detto anche ad esempio se si ha un dipendente si fa un altro trattamento perché perché il trattamento dei dati del dipendente chiaramente è un qualcosa di diverso dal trattamento dei dati del socio ed ha delle sue specificità e tra l'altro quando parliamo della presenza di un dipendente parliamo anche dell'acquisizione di dati particolari del dipendente perché se fosse affiliato ad una sigla sindacale noi comunque lo sapremmo perché verseremmo la quota al sindacato solo per dire un esempio ed è un dato ex dato sensibile dato particolare naturalmente se si fanno altri trattamenti bisogna fare dell'attività finalizzata a rendere adeguato il club al regolamento europeo sulla privacy quando si ha un sito internet come minimo l'informativa sui cookies se sul sito internet si permette agli utenti di accedere per chiedere delle informazioni bisogna dare un'informativa agli utenti del sito e quindi bisogna procedere con specifiche valutazioni ovviamente adesso il tempo non mi consente di entrare tanto nello specifico ma solo per farvi capire ovviamente in tutto questo anche chi usa la versione base o la versione pro è indispensabile da parte dell'interessato che allo stesso venga fornita l'informativa di cosa si fa e quello che vi posso dire è che all'interno del sistema club communicator è sì presente una bozza di informativa privacy ma deve essere adattata al club al quale si riferisce perché altrimenti lei è in bianco cioè nel senso individua tutta una serie di cose ma dobbiamo vedere all'interno del nostro club cosa facciamo perché noi possiamo ben utilizzare la loro bossa di informativa da dare ai soci ma se noi facciamo anche altri trattamenti facciamo anche altre cose dobbiamo implementare quell'informativa indicando quei trattamenti ora tutto quello che ho detto può sembrare un qualcosa di molto astratto in realtà è molto concreto perché quello che ci chiede il legislatore oggi è di autovalutarci per quanto siamo bravi ad assicurare ai soggetti che ci conferiscono i dati la sicurezza del dato stesso grazie a tutti